ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi siamo nuovamente su empirion con questo video diciamo del weekend video bonus video che non va a occupare uno degli slot classici dei video canonici settimanali perché ho voluto fare questo video perché ho deciso all'alba delle 202 ore su questo gioco su empirion di ricominciarlo nuovamente cercando un survival ho giochicchiato un pochino arc a me è piaciuto anche se io non sono molto in sintonia con dinosauri quindi ho deciso dato che mi piace lo spazio ho detto perché non ricominciare nuovamente in periodo lo avevamo giocato lo avevo giocato sul canale di gameplay channel quando è uscita la beta insomma l'esperimentale diciamo come versione che aggiungeva diciamo dialoghi dei png ora dato che la situazione si sta facendo piuttosto interessante perché è stato praticamente quasi tutto tradotto in italiano anche a livello di dialoghi ho fatto conoscenza di quella tribù che sembra diciamo molto primitiva e che abitano diciamo in un villaggio qua vicino è praticamente che cosa succede ho parlato col capo ha detto che vede qualcosa in noi ha già visto degli umani che sono precipitati un anno fa questo pianeta e quindi inizia ad esserci anche un po di storia e dice che lui vede qualcosa in me non si capisce che cosa e quindi in sintesi mi fa guarda comprami un germoglio dal nostro mercante ho comprato un germoglio alla fine era un tutorial nascosto giusto per farci capire come si commercia ma poi mi ha detto guarda ti chiedo un favore prima che io parli agli anziani del villaggio vai e uccidi i rani io adesso devo ucciderli e lo sto facendo sto facendo questa mission cina per conto del capo e ho anche scoperto una cosa molto interessante che purtroppo adesso qua ho finito i colpi quindi dovrò arrangiarmi dio mio praticamente ho scoperto che quella tribù se voi avete giocato in piedi non sapete che c'è una una razza che vive sui pianeti non gli zirax ma italon che diciamo che a prima vista sembrano delle tribù ultra primitive e da quello che ho scoperto quello che mi ha detto il capo che ripeto tutto tradotto in italiano ora mi ha detto che è una copertura e l'hanno rivelato a me mi hanno detto guarda sono secoli che noi viviamo così per dar l'idea di essere molto primitivi molto regrediti in modo da essere sottovalutati ed è questa cosa che ho apprezzato molto perché tutto mi aspettavo da questo survival meno che un po di background ok ora dobbiamo parlare con il comandante quindi direi che possiamo tornare i ragni sono ancora lì mi fanno veramente senso voglio andare via vediamo a parlare al capo che vuole vederci tra l'altro ho abilitato tutte le difficoltà possibili immaginabili in questo gioco nel senso che adesso c'è il peso e anche il volume e infatti con l'inventario quasi pieno non riesco a equipaggiare la moto quindi devo buttare a terra tutto per poter equipaggiare la moto comunque adesso qua siamo al villaggio vedete il villaggio poi la grafica è quello che è per quanto riguarda queste texture ma in realtà poi a livello di pianeti non non scherza tra l'altro la versione sperimentale 12 mi pare l'avevamo iniziata sul canale di mirko perché aveva una funzione nuova aveva la grazia è giusto così giusto per non c'è più il sistema solare e basta un'altra c'è un mega sistema se vi ricordate come in tutti i pianeti adesso c'è quello questi sono quelli che giocano a fare i primitivi ma in realtà hanno molto altro da nascondere credo adesso vediamo vediamo cosa succede ok eccellente vedete parla in italiano poi adesso sicuramente uscirà qualche frase in inglese però pensiamo che tu abbia mostrato il tuo valore ora dovresti imparare di più sulla minaccia ed eventualmente aiutarci a rispondere alla domanda di che cosa stia succedendo esattamente ora per favore trova un modo per entrare nella torre del monumento e raggiungi la cima li troverai una targa con un'iscrizione anche se questo monumento è molto antico la targa è stata scoperta solo recentemente esposta alle onde d'urto delle navi distrutte che si schiantano al suolo questa targa un'importante testimonianza di un racconto lontano del lontano passato non siamo stati in grado di seguire una traccia fino alla fine per alcuni tristi motivi ogni coraggioso guerriero talon che ci ha provato è stato ucciso dagli zyrax o è scomparso siamo sicuri che troverai delle risposte non smetterò mai di ribadirlo questa informazione alla massima importanza per ogni essere vivente su questo ogni altro pianeta ho una brutta sensazione al riguardo va bene vedete abbiamo preso la missione e andiamo a trovare la tavola scritta cioè ci sono queste missioni che sono le tutorial iniziali ma non solo perché poi è diviso capitoli e sembra essere molto figo come gioco allora trova la tavola scritta si e dovrei andare al monumento e salirci allora da quanto ho capito comunque andiamo a vedere magari ci sono ancora i rani che ci danno fastidio comunque dobbiamo salire quindi a questo punto la scelta è quella di costruire la nave e salirci oppure cercare un modo di arrivarci così diciamo salendoci di base in realtà possiamo salirci anche così non ho cartato munizioni questo è un male avevo fatto 100 munizioni ma le ho finite cos'è questo lingotto lingotto prendi prendi potrebbe essere un problema il fatto modulo di scavo non me lo prende perché perché siamo pieni vedete ho il volume pieno quindi dovremo rinunciare a qualcosa io vedete volume 2v cioè non è niente 2b quello che occupa tanto sono queste cose qua immagino 40 i computer cioè è tutto fatto molto molto realistico adesso quindi io non ho proprio volume per niente assolutamente niente i computer occupano tanto mannaggia c'è anche la carta di credito che non occupa niente la tenda 1,50 questo direi che 12 me li butto via ok quindi prende lingotti lingotti neanche tutti posso prenderli di cobalto posso prendermi una pistola che io onestamente scambierei con questa perché è una pistola di tir 2 quindi di tir più avanzato c'è anche fucile d'assalto che mi piacerebbe tanto prendere lo scambio con cosa mannaggia non ho proprio più spazio devo buttare anche la bombola d'ossigeno o lingotti di silicio che posso prendere adesso comunque siamo quasi pieni i campi di forza non mi interessano voglio prendere altri lingotti magari un modulo di scavo meccanico che lo butto qui al posto di vediamo se posso mi hanno regalato anche questo questo medikit vediamo se posso scambiarlo con qualcosa è computer ma mannaggia i computer me ne fa prendere uno solo è bel problema questo beh diciamo che il pupazzo di neve il cappello qua è un po un po eccessivo vabbè comunque si continua a salire tanto munizioni non ne abbiamo quindi non è che ci sia molto da dire devo valutare se tenerla o meno questa impostazione dio delle città scusi eh vedo niente che cosa è forte sto qua non è niente scusi eh adesso eh si vediamo eeeh stiamo ci stiamo mettendo un po' a ucciderlo comunque adesso a breve quando quando sta per morire inizierà a fuggire ho esperato qualcosa qua soluzione nutriente ci servirà per coltivare ma continuano a generarsi ragni e tra l'altro vedete che poi guadagniamo esperienza quando li uccidiamo ma continuano a generarsi ragni deve esserci un nido di ragni in alto eh perché vedo che continuano a scendere adesso io me ne frego me ne vado e vediamo cosa c'è in cima alla torre eh dobbiamo trovare questa maledetta targhetta scusate eh ma adesso mh uno dei vantaggi di questo di questo gioco è che comunque se si muore si rinasce vicini quindi non è eccessivamente punitivo eh anche se può essere a risultare frustrante siamo arrivati in cima direi che e vedo del verde qui eh mamma mia e eccola non riesco di riconoscere la lettera tranne per un frammento legacy se riuscissimo a trovare altre di queste iscrizioni potremmo essere in grado di tradurre nel linguaggio siamo arrivati in cima c'è anche ci sono anche nove rad qua cioè sembra eh essere abbastanza uulululul abbastanza radioattivo il campo eh però vabbè e vediamo adesso se la missione c'è la data con ok la tua presenza vicino a questa tavola di iscrizione sembra avere innescato qualcosa il tavolo ha iniziato a mettere un segnale basso ma costante come un segnale di posizione ho messo un indicatore sulla mappa ok perfetto andiamo giù mamma mia sei alto qui devo fare attenzione perché non ho tuta non ho jetpack non ho niente però devo dire che nonostante abbia ricominciato questo gioco per la quinta la sesta la settima volta eh ogni volta è sempre diverso e soprattutto questa è la prima volta che finalmente non c'è il semplicissimo tutorial iniziale ma c'è anche un minimo di storia quindi non vedo l'ora di andare avanti non è più fine a se stesso anche se mi piacerebbe poi arrivare a un punto di fare quello che voglio però gradisco molto bene questa cosa perché comunque mi guida e mi dice comunque dove andare e cosa fare all'inizio e magari mi fornire anche un po' di equipaggiamento questo fa sicuramente parte della mia top ten dei migliori indi mai provati comunque adesso dobbiamo andare in quel punto là che sono un chilometro e otto scusi ragnetto me ne vado sono messo anche abbastanza male perché devo dovrei mettermi a cucinare la carne e soprattutto sta iniziando a diventare un problema il fatto che non posso raccogliere più quello che voglio perché è perché c'è il problema del volume e del peso quindi sarà utile potrebbe avere una nave e finalmente avranno senso i diciamo i portapacchi le box all'interno di navi e over craft mi veniva over board ma direi che non è il caso tra l'altro è anche notte potrei mettere giù la tenda e dormire bello il lago qui poi io non avrei dubbi questo è un gran gioco che era già giocabile quando non aveva addirittura gli alberi quello che dico sempre poi avessi avuto tutto questo tutta questa parte pv e anche uno space engineer sarei morto definitivamente perché quello che manca a questo gioco è quella cura di fisica anche se qua è migliorata tanto negli anni e di gestione anche dei gas di quelle cose lì però diciamo che il top è quello avere proprio come c'è in space engineer combattere proprio con la forza di gravitare e andare via dal pianeta cosa che qua purtroppo non c'è allora siamo arrivati qui trovo un modo per entrare io sono io non vorrei farla un po' fuori dal vaso perché 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 io ho uno strano presentimento che mi fa venire qui appoggiare questo e poi e poi basta buttare dentro tutta sta roba in modo che abbiamo tutto quello che ci interessa ci interessa tenere lì al sicuro ok adesso voglio fare anche una cosa di questo tipo prendo la tenda la piazzo qui e ci dormo fino a domani mattina ok poi mi metto qui e produco della carne non me la fai? eh non me la fa perché è andata male nel frattempo è andata male che è passata la notte adesso non può rompirla vabbè mangerò delle barrete energetiche ok posso produrre del dei proiettili no perché? perché mi manca il carbone il rame e vabbè chi se ne frega stiamo registrando un video esplorativo quindi entriamo all'interno di questa torre e e andiamo a vedere console comandante sembra esserci un meccanismo di apertura dell'altra parte nelle stanze consiglio di attivarlo e vedere ok lo farò porca boia sono ovelenato morirò tra pochissimo spero di uccidere prima il ragno ok provo a usare questo ok unguento antibiotico antitossico e antibiotico ok ci siamo curati perfetto dice di usare qualcosa ma non mi ricordo che cosa eh indaga e fuggi eh no buono allora no buono perché c'è sicuramente qualcosa che non va qui indago c'è un'iscrizione c'è un'altra iscrizione c'è un'altra iscrizione c'è un'altra iscrizione e c'è qualcosa qui voglio provare a vedere se riesco a smontare questa parte qua no no devo capire come uscire da sta zona vediamo un po' se con questo riesco con il multitool ehm smonta ah non posso fare modifiche a questa struttura posso prendere un po' di roba lina eh si eh questa cosa nascosta qua da abbattere ok si stanno accendendo si sono accese tutte le luci ma non capisco oh che cosa stia succedendo oh 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 via 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 beh se sono solo questi due ce la posso fare no ma devo ucciderle comunque perché me lo dice la quest quindi direi che adesso non voglio allontanarmi troppo e finire magari in pasto a dei ragni quindi io continuo così ehm ovviamente se poi volete capire come si comincia una partita di Empirion posso farvi un mini tutorial su come iniziare ehm di sicuro non dovete iniziare così con l'arma di default perché ci mettete una vita e rischiate anche di morire ehm dovete iniziarlo craftandoli delle armi buone quantomeno va bene ora torna alla torre telebrale e disotterra il segnale perfetto quindi vedete che la moto adesso è così messa così lo posso riprendere a riequipaggiare il problema è che tutta la roba che ho qui dentro non riesco a prenderla no riesco a prenderla non dovrebbero esserci problemi di sorta devo prendere anche questa sì ci sta tutto qua dentro non c'è più niente niente si torna indietro si torna alla torre tribale si disotterra il segnale non so cosa voglia dire ma ehm ritorniamo dove eravamo prima beh ragazzi io vi lascio così perché credo di avervi già messo ulteriormente la pulce nell'orecchio su quello che sta diventando imperion non me l'aspettavo onestamente perché quando avevamo provato la versione experimental era ancora tutto in inglese non c'era tutta questa parte di storia raccontata è giocabile anche in cooperativo ovviamente e tra l'altro avete anche tutte le fazioni guardate quante ne hanno giunte noi conosciamo i Talon i Polaris e gli X-Dirax che sono i cattivi alla fine ehm poi avessero giocato online in un server avete anche tutte le fazioni umane ma qua ci sono tutte le altre e tra l'altro poi potete andare a prendervi tutte le missioni qua sto facendo capitolo 2 poi si parla di capitolo 3 capitolo 4 capitolo 5 capitolo 6 poi c'è la parte di storia 2 credo che questo non sia ancora completo eh nel senso che credo che fino al capitolo 6 sia tutto in italiano dopodiché deve essere ancora tradotto ovviamente qua non conoscete ancora le fazioni ma qua ve le dice ci sono i Talon Polaris gli X-Dirax i Pirati la Giuda dei Commercianti l'Impero Kriel e i Coloni colonists quindi insomma da giocare ce n'è ehm ovviamente mh il fatto che non sia tradotta una parte di storia non mi mette assolutamente tristezza perché vi dico che non ho intenzione di fare a vita questa ma ho intenzione di farmi la mia nave le mie navi e andare esplorare i vari pianeti farmi le basi generarmi l'energia cioè crearmi comunque il mio stile di gioco preferito belle le tue rette difensive molto belle niente siamo nuovamente qua alla torre adesso dobbiamo parcheggiare c'è un campo di vento sperando non ci siano ragni ah no dobbiamo disotterrarlo quindi dobbiamo scavare in profondità ma vedete che a questo punto siamo già abbastanza bloccati perché io non credo si possa scavare già con questo infatti avremo bisogno di una tarivella ok la partita adesso è ferma perché dovrò mettermi lì e cercare di ottenere una tarivella di craftarne una quindi dovrò mettere la mia prima base insomma e riuscire ad andare sottoterra per intanto chi se ne frega mi vago un pochino in giro tanto viene riportato tutto sulla sulla mappa tra l'altro potrei tornare in città e vedere se qualcuno ne ha qualcuna da vendere però credo che con 100 crediti non si possa fare molto ma il bello è quello che potete raccogliere merci in giro per per il mondo e poi andare a venderlo ve lo faccio vedere giusto così al volo vendere merci ai tizi qui adesso vediamo se riesco a generare da visuale eccola qui io non so se gli da fastidio se entro quella moto ma la lascio lì nel dubbio questo tizio qui che ci vende le cose vedete che vedete vende le cose spumante le varie cose ma parerebbe vendere solo roba molto pacifica diciamo c'è un'altra città però qua in fondo no di qua scusate c'è un outpost che vende comunque delle cose è l'outpost quello quello più completo con gli hangar e tutte le torrette difensive quindi è un un outpost di commercio quindi ci andrò sicuramente ragazzi per intanto chiudo qui fatemi sapere cosa ne pensate di questo nuovo Empyreon nuovo per modo di dire però insomma di come sta andando avanti se avete gradito il nuovo che vi ho portato a proposito del gioco alla prossima e ciao ciao